Perché i vaccini hanno potuto essere immessi sul mercato così rapidamente? I vaccini sono farmaci come tutti gli altri e come tutti gli altri farmaci sono previste diverse fasi di studio prima che venga autorizzato, cioè prima che si possa usare sull'area scala. Cosa ci ha permesso a essere più veloci? Diciamo che avevamo già dei buoni dati a disposizione su altri coronavirus e anche su vaccinazioni contro altri coronavirus dalla SARS o anche dalla MERS e questi sono stati di grande aiuto. Poi ovviamente ci troviamo in un'emergenza mondiale e per cui sono stati messi a disposizione tanti soldi, tante finanze e tante teste, tanta scienza che ha potuto garantire che le cose vadano un po' più in fretta. In pratica sono state fatte tutte le fasi precliniche, tutte le tre fasi cliniche previste per l'autorizzazione, in parte sono state fatte contemporaneamente, non ci sono stati tempi morti perché come detto i finanziamenti c'erano e per cui non ci sono stati grandi problemi, non hanno trovato degli effetti collaterali preoccupanti e così via, per cui si è potuto procedere anche contemporaneamente con le diverse fasi. In più i dati delle varie fasi sono già stati dati subito all'ente regolatoria, in questo caso l'EMA, per studiarli e poi conclusi gli studi, tutti i dati a disposizione, l'EMA ovviamente era più veloce a valutare poi questi dati perché già in parte li conosceva. E questo è stato il motivo per il quale in un anno dalla comparsa di un virus è stato possibile avere già un vaccino a nostra disposizione. Continua comunque la sorveglianza, la farmacovigilanza per effetti collaterali molto rari, che come per tutti i farmaci avviene dopo l'autorizzazione, quando poi vengono vaccinati milioni di persone. Però anche su questo possiamo dire ormai sono state vaccinate tanti milioni di persone e meno male sembra funzionare bene e non dà grandi preoccupazioni.